In questo numero di Qui Europa Magazine, dal Parlamento europeo via libera la nuova politica agricola comune. Politica di bilancio espansiva nell'eurozona anche nel 2022. Il PIL dell'Unione europea sarebbe del 2,1% nel terzo trimestre 2021. Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla nuova politica agricola comune. La riforma punta a rendere il programma di finanziamenti più sostenibile, equo e trasparente. Durante i negoziati sul pacchetto di riforma legislativa, i deputati hanno posto l'accento sul rafforzamento della biodiversità e sul rispetto degli impegni ambientali e climatici dell'Unione europea. La Commissione dovrà valutare se i piani strategici nazionali della PAC saranno in linea con questi impegni. Gli Stati membri sono infatti obbligati a garantire che almeno il 35% del bilancio per lo sviluppo rurale e almeno il 25% dei pagamenti diretti siano destinati a misure ambientali e climatiche. Abbiamo una nuova PAC, una PAC più equilibrata, sicuramente rassicura importanti risorse all'agricoltura europea, ma abbiamo anche una PAC più attenta alle condizioni economiche degli agricoltori, tanti strumenti che renderanno più forti e competitive le nostre imprese e poi una PAC più giusta perché abbiamo introdotto oramai nel corpus della norma anche la condizionalità sociale, quindi il rispetto delle regole dei lavoratori oggi è all'interno della PAC e quindi non più un euro se non si rispettano le norme, basta concorrenza sleale tra le imprese, tra chi rispetta e chi non rispetta le norme sul lavoro. Rispetto alla programmazione precedente, le risorse per il settore agricolo italiano avranno una riduzione. Ci sono luci e ombre in questa PAC, tra gli aspetti positivi sicuramente l'aiuto ai piccoli agricoltori e ai giovani agricoltori, tra gli aspetti negativi purtroppo il taglio di oltre 6 miliardi di euro per l'agricoltura italiana che ovviamente diventerà un problema per il sostegno dei nostri agricoltori. Adesso la partita passa ai governi nazionali attraverso i piani strategici nazionali. Mi auguro che si faccia bene e ci faccia in fretta. Per i gruppi ambientalisti gli impegni per la sostenibilità contenuti nella nuova politica agricola comune non sono sufficienti. Questa PAC è un'enorme contraddizione rispetto a quelli che sono i proclami dell'Unione Europea in tema di Green Deal e di tutela dell'ambiente. Non c'è alcun cambio di passo sul tema della tutela della biodiversità, sul tema della tutela dell'ambiente, sulla tutela e la difesa della piccola agricoltura tradizionale. Di fatto è il solito grande lavoro delle grandi lobby dell'agroalimentare. È purtroppo una grandissima occasione mancata per l'Europa e per gli europei. L'orientamento di bilancio della zona euro sarà espansivo fino al 2022. Il contributo positivo proveniente dagli investimenti pubblici ed altre spese finanziate sia dai bilanci nazionali che dall'Unione Europea è rilevante, ma il principale motore dell'espansione di bilancio nel 2021 e nel 2022 è la spesa primaria finanziata a livello nazionale. Lo evidenzia la Commissione Europea presentando il pacchetto d'autunno per il sostegno alla ripresa. In diversi stati membri, compresi alcuni fortemente indebitati, l'orientamento di bilancio favorevole previsto dovrebbe essere determinato da una maggiore spesa corrente finanziata a livello nazionale o da riduzioni delle entrate tributarie prive di copertura finanziaria. In alcuni casi si prevede un impatto considerevole sulla proiezione di bilancio sottostante. In circa un quarto degli stati membri l'orientamento di bilancio favorevole dovrebbe essere trainato dagli investimenti finanziati sia a livello nazionale che dall'UE. La Commissione invita gli stati a mantenere nel 2022 un orientamento di bilancio moderatamente favorevole in tutta la zona euro e a orientare gradualmente le misure di politica di bilancio verso investimenti che promuovano una ripresa resiliente e sostenibile. Inoltre Bruxelles sottolinea l'importanza di una transizione da misure di emergenza a misure di ripresa nei mercati del lavoro. Per il Commissario Europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, l'Unione è in ripresa ma vanno tenute in considerazione forti turbulenze. Il rapido aumento dei casi di Covid, l'impennata dell'inflazione e i problemi legati alla catena di approvvigionamento delle merci. Questo panorama economico complesso richiede politiche attentamente calibrate per mantenere la ripresa sulla buona strada e passare a un modello di crescita più sostenibile. Nel terzo trimestre del 2021 il PIL è aumentato del 2,2% nell'area dell'euro e del 2,1% nell'Unione Europea a 27, secondo quanto rileva Eurostat. L'Austria ha registrato la crescita più marcata sul trimestre precedente, seguita da Francia e Portogallo. Sul fronte lavoro si registra un aumento degli occupati dello 0,9%. Nel secondo trimestre l'occupazione era aumentata dello 0,7% nell'eurozona e dello 0,8% nell'Unione Europea. Ricomincia a crescere il mercato delle costruzioni. A settembre la produzione cresce dello 0,9% dopo il meno 1,4% registrato ad agosto. Nel 2020, anno dello scoppio della pandemia, la spesa per i consumi delle famiglie nell'Unione Europea diminuisce dell'8% rispetto al 2019, un dato senza precedenti. È infatti la più grande riduzione annuale registrata, rileva Eurostat, da quando viene misurata ed è dovuta agli effetti della pandemia Covid-19. Le misure di allontanamento sociale, le restrizioni governative imposte alla circolazione delle persone e le attività economiche non essenziali hanno gravemente influenzato la spesa per i consumi delle famiglie. Le maggiori diminuzioni della spesa si osservano per ristoranti e hotel, abbigliamento e calzature, trasporti e cultura. I maggiori aumenti riguardano invece alimenti, bevande non alcoliche e comunicazioni.